La pandemia che ha costretto tutti a restare fermi per due mesi si sta ripercuotendo anche sul mondo del calcio, in particolare quello dei dilettanti a partire dalla Serie D e se tutte le società sono in attesa di conoscere l'epilogo della stagione ce n'è una, l'Agropoli, che pur a fronte di una classifica che non lasciava molto spazio all'ottimismo è riuscita, dopo l'uscita di scena del presidente Bisogno, a riorganizzarsi. Fabio Cortazzo, ex capo ultra dei delfini e il sindaco Coppola hanno dato vita ad un nuovo organigramma che comprende il presidente Nicola Volpe, il DG Saverio Prota, Luigi Pucca e lo stesso Cortazzo. L'Agropoli al momento dello stop era desolatamente ultimo e questo potrebbe significare retrocessione in eccellenza. Ovviamente l'auspicio di tutti è quello che possa essere ancora a Serie D e la cosa non è da escludere anche perché si parla con insistenza di riorganizzare i format dei campionati, essere nuovamente in D sarebbe il modo migliore per festeggiare i cento anni del Delfino.